La provincia di Lucca e le giornate FAI nazionali d'autunno, un rapporto che nelle passate edizioni ha riscosso un grande successo e che per questo 2024 si rinnova con l'appuntamento annunciato per il 12 e 13 ottobre. Due giornate in cui sarà possibile visitare quattro siti nei comuni di Lucca, Capannori e a Borgo a Mozzano. Nello specifico si tratta di Palazzo Guinigi, l'azienda Martinelli Luce, il Lago della Gerardesca e il Convento di San Francesco. Il tutto è stato presentato durante una conferenza stampa tenuta a Palazzo Orzetti, alla presenza dell'assessore alla cultura di Lucca, Mia Pisano e la capodelegazione del FAI Lucca, Lucilla Benvenuti. Palazzo Guinigi è per noi un grandissimo orgoglio e siamo molto felici che il FAI abbia scelto questo sito per aprirlo sia ai cittadini di Lucca ma anche alle persone che desiderano venire a Lucca per le giornate FAI. È un luogo prestigioso, 54 stanze, c'è molto da vedere e soprattutto ricco di storia. Per questo le porte saranno aperte a chi vorrà vederlo questo fine settimana. Il FAI ha puntato quest'anno e faranno anche a novembre, ci saranno le giornate del FAI e della biodiversità, sui nostri luoghi ambientali. Abbiamo avuto grazie al sindaco di Capannuri e a tutti gli assessori la possibilità di far visitare con delle guide sia ambientali e i ceceroni delle scuole questo lago che veramente, anche se non è grandissimo, è molto bello, interessante per tutte le specie che racchiude, sia naturalisti che vegetali che animali. Il giro dura un'ora e vi aspettiamo all'ingresso che ci sarà il Banco FAI e poi iscrivetevi al FAI che è una bella festa. Il FAI è allegria, è amicizia, è abbracci con le persone e abbracci con il nostro grande patrimonio che abbiamo a tutto tondo.